Un paracadutista di 31 anni, originario della provincia di Milano, in forza Colmoskin, è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. Secondo le prime ipotesi, la morte potrebbe essere avvenuta dopo un lancio notturno fatto in attività sportiva privata, ma non viene neppure esclusa la caduta accidentale. Il corpo è stato trovato da un commilitone verso le 2.30 della notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che dopo aver constatato il decesso con il medico, hanno messo la salma a disposizione della procura di Livorno. Nel corso delle indagini che stanno portando avanti gli stessi carabinieri, si tratta di stabilire se l'incidente sia avvenuto a causa del malfunzionamento del paracadute o se si tratti di una caduta accidentale avvenuta mentre il paracadutista stava raggiungendo la sommità del traliccio per aggiungere il punto di lancio. Ogni ipotesi è sotto valutazione. Il paracadutista, secondo quanto accertato finora, al momento dell'incidente si trovava da solo ed era solito effettuare attività sportiva di base jumping. A dare l'allarme sono stati proprio i suoi colleghi, che lo aspettavano a cena a Livorno, ma non vedendolo arrivare, sono partiti per Piombino, dove sapevano che era andato, ritrovando prima la sua macchina posteggiata all'esterno dell'area recintata dall'ex centrale e quindi il corpo riverso a terra a una decina di metri dal traliccio.